È Silvia Chiassai Martini, sindaco di Montevarchi e presidente della provincia di Arezzo, il vicepresidente dell'Unione Province Italiane, a conferirla il prestigioso incarico il presidente del Lupi, Michele De Pascale, che l'ha voluta al suo fianco nel complesso compito di guida dell'Associazione delle Province. Un onore doppio perché per la prima volta la provincia di Arezzo ai tavoli nazionali e poi perché è anche la prima donna che finalmente piano piano iniziamo anche noi ad avere riconoscimenti di tale livello. Tra l'altro sarò responsabile sempre per l'UPE a livello nazionale per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione e della Sicurezza negli edifici scolastici, quindi un altro incarico importante perché riguarda la sicurezza dei nostri ragazzi, tant'è che il venerdì prossimo sarò a Torino per l'Osservatorio nazionale che il ministro terrà, proprio per sensibilizzare, per far comprendere quanto è importante la misa di sicurezza dei nostri edifici. Quindi un modo in più per lavorare ancora meglio sicuramente su un tavolo nazionale, a contatto con i ministri durante gli incontri e poter avere più a cuore anche la nostra provincia.